La tradizionale processione del simulacro dell'Immacolata non si potrà tenere per via delle note restrizioni in essere per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19. Così, i frati del Terzo Ordine Regolare della Chiesa del Giglio di Sciacca con la confraternita, coadiuvati dall'appassionato aiuto dello studioso Vincenzo Mandracchia, hanno realizzato un documentario dedicato alla storia di Maria Santissima Immacolata nella città di Sciacca e della sua confraternita. Il filmato, in occasione della ricorrenza dell'8 dicembre, sarà trasmesso da Telemontecronio. Ne abbiamo parlato con Vincenzo Mandracchia e con padre Paolo Raviotta del Torro. Padre Paolo, la solennità dell'Immacolata si avvicina quest'anno per i noti motivi relativi al Covid-19, non si potrà fare la processione, però ci sono altri appuntamenti. Li citiamo? Gli appuntamenti che ci sono come ogni anno, i Vespri solenni per il sabato, sabato sera, alle 5 e mezzo il Santo Rosario, alle 6 i Vespri solenni e poi la Santa Messa. Il giorno dell'Immacolata, poiché non possiamo fare più la processione, almeno quest'anno, nel pomeriggio celebreremo le Santa Messe. L'orario delle Messe stabilito per il giorno dell'Immacolata è alle 8 la mattina, alle 9 e mezzo, alle 11 la Messa solenne, poi alle 12 e un quarto. Prima c'era in questa Messa l'affidamento dei bambini alla Madonna, ma quest'anno non possiamo farle. Nel pomeriggio, ecco, apriremo la Chiesa verso le 3 e mezzo, poi alle 5 celebreremo la Santa Messa, poi alle 6 e mezzo e poi alle 7 e mezzo. Ogni Messa sarà preceduta sempre dalla recita del Rosario. Noi in questo modo, quest'anno, vogliamo venerare e solennizzare l'Immacolata, come abbiamo fatto ogni anno. Qual è l'importanza che riveste questa festa, questa celebrazione, anche per la comunità di Sciacca, anche per la confraternita? Nel 1999 i frati ritornarono a Sciacca e incominciarono di nuovo a promulgare la devozione della Madonna come prima. Ecco, i primi frati che aprirono la Chiesa fecero quello che potevano, non avevano mezzi. Poi è venuto il padre vecchio, Salvatore Vecchio, il quale si impegnò profondamente nel ricostruire la Chiesa, nell'abbellire la Chiesa e anche il convento, istituendo anche l'associazione dell'ordine francescano secolare, riprendendo la confraternita dell'Immacolata, che erano rimasti un po' emarginati. E da allora in poi, da quando è venuto il padre vecchio, ecco, rifiorì la Chiesa del Giglio, e rifiorì la devozione verso l'Immacolata. Questo è nato grazie all'interessamento dei ragazzi della confraternita, di Michele Patti, che è il superiore della confraternita, che sapeva che aveva delle notizie sull'Immacolata, e mi ha investito a fare questo documentario. Poi abbiamo parlato con il padre Paolo della Chiesa del Giglio, e abbiamo allestito questo documentario, che è la storia della devozione di Maria Santissima Immacolata, che è una delle più forti, diciamo, che c'è nella nostra città. Se la processione iniziò nel 1722, ma ancora prima l'Immacolata veniva celebrata dai frati del Giglio. Questo perché i francescani furono quelli che portarono avanti questa devozione verso la Madonna Immacolata. E già in Sicilia, dobbiamo dire che nel 1640 circa, fu eletta come protettrice del popolo siciliano. Il giorno 8 dicembre questo documentario sarà trasmesso anche da Telemonte Cronio, un modo per farlo apprezzare e vedere a chiunque? Un modo di far conoscere questa storia. Io parlo della storia, questa storia bellissima che da secoli si porta avanti in questa città. Vi ringrazio per quello che state facendo per divulgare questa venerazione e far conoscere la storia dell'Immacolata.